Perché hai deciso di partecipare a questo casting? Perché sono cose che mi piacciono, mi interessano, non è la prima volta che partecipo. Dopo ho fatto già quattro casting e questo ero qui in zona Bolzano, anche se vivo in pusteria, e ho detto perché no? Perché mi ha sempre interessato diventare attrice. Tu stai studiando, vuoi studiare per diventare attrice? No, beh, se c'è qualche occasione. Eh sì, più che altro per lui, per mio figlio comunque. Ah, lei è venuta per il piccolino. Sì sì, Lorenzo. Proviamo, vediamo cosa si riesce a fare, non lo so, vediamo. Sì sì, mi piace anche, è già da tanti anni che l'ho guardato. Quindi oltre a guardarlo in televisione magari potrebbe partecipare in una puntata? Eh magari, c'è anche bello. Ah, sono polivalente, dal tragico al serioso, allo scherzoso, e poi perché sono bello. No, non ho mai partecipato, la prima volta, la prima esperienza, vediamo come va. Lo sviluppo positivo è di trovarsi in televisione, anche per quel secondo, ma di poter dire io c'ero. Perché ho visto la telenovela durante quest'estate e mi ha incuriosito e ho deciso di venire. Per fare qualcosa di diverso e per passare una giornata in maniera diversa. Ma lui è il, mi segue dappertutto, si chiama Pista, soprannominato l'alpinista, perché viviamo in montagna e ci piace ogni domenica andare in montagna a fare e scalare tante vette. E lui è sempre con me, dove sono io c'è anche lui. Ma se per i soldi, devo dire la verità, faresti la fame, però farei gusto di partecipare. Anche il lato economico in questo momento, vediamo. No, dal mio punto di vista è tanto per partecipare e fare un'esperienza, anche perché, insomma, non è che paghino così tanto, quindi... Grazie.